Benvenuti amici sul canale di DreamTVHS in compagnia di Mr. Dream Questa volta voglio parlarvi di un deck che mi ha portato dal 10, dal 7, dall'8, quant'ero di rank? Al 4 Rank 4 È un deck che l'ho partito con un Murloc Shaman classico Non so se mi senti per bene e poi abbiamo virato un po' sul Murloc insieme ad Agatha con lo Shutterwalk, quindi da Cicciazampa con tutti i gridi di battaglia e anche la leggendale nuova che insegna delle magie che io consiglio, le magie da prendere sono due Pioggia di Rospi e Hex quindi quello che trasforma il suo cammino all'avversario in Rospo queste sono le due magie che consiglio Allora questa carta è stata modificata Andiamo subito a vedere il deck che vi sto consigliando adesso E possiamo anche parlare Ringrazio di tutto Zio Marut che tra l'altro saluto che mi ha dato questo input di mettere alcune carte che io non avevo messo Allora partiamo innanzitutto dal Forgore della Terra che è una grande carta soprattutto perché è un Silence quindi va benissimo contro qualsiasi McHunter o McVala ma anche contro eventuali, insomma, i neongrossi con provocazione quindi ottimo, una copia Murloc invoca maria doppia Oraco lo scarica salda 1 perché i due effettivani sono pesanti Pinna Tossica 2 Trincafango 2 ovviamente il canzone a carico non si ne frega Trincafango che va bene anche per Imbrigliatoni una volta che gioca una carta con il canzone a carico è in epoca 2 scintille 1 e 1 passato un costo 4-3-6 quindi un po' di molto alto Poi anima delle Murloc Murloc branchia azzurra doppia copia a posto dell'eroe cioè questo, vabbè alla fine questa è l'unica cosa non carica Murloc caccia marea doppia copia Pescatore sotterranea doppia copia ovviamente Condottiero Leggente doppia copia Imbrigliatoni che ho detto Murloc pinna golosa ne giocavo due in questa versione si gioca monocopia perché i due effettivani sono pesanti la Scagnossa doppia copia perché secondo me è una carta che è un must cioè costo 4-3-3 che mette 2 Murloc vabbè, in questo caso a terra è l'ideale vabbè doppio Bloodrust Regina Palostra Agata Agata e Ciccia Zappa adesso andiamo a provare questo deck insieme a voi e far vedere anche le giocate che faccio per non fare tutte le figure avete visto che non hanno 3 vittorie per il rank 3 ha perso perché gli altri mani osculati in faccia come al solito per questo gioco rinveni e rinveni quindi rinveni carta per poi rinvenire quello che riserva per chiudere la partita adesso vediamo un poco ecco qua adesso abbiamo un mago si vediamo un poco questo mago dobbiamo fare le palle ah partiamo con la coin ottimo da fare così per risolvere il pescatore giotterraneo di partire a turno 1 in modo tale che se abbiamo qualcosa ecco abbiamo questo va bene potremmo anche fare turno 1 Morlock invocano a Re e turno 2 vediamo un po' cosa peschiamo ok allora noi facciamo come detto io poi andiamo a turno il pescatore perchè questa carta è la carta chiave che ci serve per poter macinare tanti Morlock giocandone uno tenendo un altro e così via adesso lo che fa farà il potere eroe mi va a pingare il 2-3 ok questa è una propria messa adesso noi abbiamo la possibilità di andare a macinare Morlock ovviamente uno solo noi ci siamo andando questo 1 ma va da questo passiamo lo che vi consiglio è di aspettare bene a ogni giocata la carta da giocare perchè un errore è fatale in questo gioco in qualsiasi errore è fatale anche se si gioca un agro bisogna ragionare abbastanza bene vediamo adesso questo mago che deve un turno 3 quindi farà un altro ping questo ma no va a pescarlo ma questo ci va bene turno 3 allora possiamo fare una cosa bella intanto cominciamo vediamo Mileno a Morlock noi dobbiamo macinare il primo molto possibile ho detto questo va bene ma noi andiamo a giocarci questo così cominciamo di altri due intanto questo ma da scelta di nuova sfregia fine non abbiamo un small deck sotto consiglio sempre lo lusio marut perchè in effetti è un costo 4 un po' grosso effettivamente inizia a terra 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 allora venga che non ci serve possiamo fare così tanto è questo non c'è e qua ci conviene fare cosiè facciamo l'eva di Morlock e questi tornano tutti in vita inizia a terra che è un soldato inizia a terra inizia a terra raro inizia inizia a terra adesso si va a cercare un altro gigante da montagna quindi in questo caso va benissimo il popolo della terra sto pensando che cosa fare, dobbiamo mettere adesso qua non mi conviene trovare questo pezzo dovrebbe fare qualche porcata lui questo va fatto per alzare la mano per mettere il gigante a terra sicuro come la morte ok, andiamo a tagliare 2-4, passino forse allora abbiamo 1,2,3,4,5,6,7,8 ho trovato un altro giro ok, andiamo a trovare un altro giro e poi troviamo un altro giro che non è più difficile diciamo che il giro finito in amore su cerco hai vinto stavolta vabbè era molto forte questa giocata con i morti adesso facciamo anche partito per avere un po' il famoso gioco se vi è piaciuto il video e il canale iscrivetevi al canale nel frattempo nel matchmaking vi consiglio di testare questo deck perchè comunque ha grandi potenzialità sotto il warrior control questo deck perde di brutto adesso potremo token droid ammesso se non token sarà più forte iniziamo per prima allora pescatore sotterraneo si finisce la lupia ma pure la terra se non ci fosse almeno in questo caso tengo prima pescatore perchè è una grande carta tutte carte pesanti tutte carte pesanti ragazzi passiamo se iniziamo la nostra ok sz mi metto no due grelli l'ideale sarebbe mettere questo perchè come mettiamo questo andiamo a contestare questi due pezzi a meno che lui non li potenzi ecco se ti farò bottele dove per toglielo da mezzo adesso vediamo cosa fa è molto forte il d3 questo 2 ha una vita altissima infatti è strano che darò per me per me era meglio per me era meglio per una epica adesso lui è contestato al forse ma fa la lita sembra la lita non vanno a pesca ma non vanno a pesca non vanno a pesca ma non vanno a pesca ma non vanno a pesca ma non c'è se c'è la lita ma non c'è una volta su ma non vanno a pesca perchè adesso noi li non c'è mi mandano la possibilità di poter fare il muro e questo adesso lui è costretto a togliere il 3d per forza questo è un po' che non quello che fa dalle ma questo ora cosa dobbiamo poter fare, metto questo pisco di un warlock metto questo peschiamo 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 così peschiamo 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 eh poteva proprio fare qualcos'altro no eh? dobbiamo fare il bordo comunque perchè anche in caso lui andrò a trattare il B3 ma lui però ha fatto Swipe che c'è? che c'è? questo non mi ha aspettato il 5-2 ma ci vuole qualsiasi vabbè noi abbiamo male quindi sono abbastanza tranquilli diciamo questa cosa, questa cosa abbastanza andiamo a cercarci una magia questo è otto mandando a tutti e ripartiamo di roba siamo prossima sinistra siamo prossima qui 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 ... ... ... ... ... Cosa dobbiamo cacciare? Cosa fare? 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 stavo pensando con blooddust 6x3 18 3x7 21 francesco che stai facendo un altro banditore è un formato senoioso vieni e questo è buono francesco che stai facendo? francesco ciao francesco vai via da là la mia supplica fin dai tempi andati da magia e maledette verrete enfolgorati sono prego e e e e e e e e Sì, vediamo che sta facendo il mio figlio Questa è un'altra sconfitta naga, purtroppo Però noi ce la giochiamo fino alla fine Il gestito di potenza era questo che tanto dopo lo facciamo ex qua solo Ho finito le carte Bezzi Ma perché non la faccio il modificio scusami Ho finito le carte Sì, un attimo Questa è un'altra sconfitta Questa è un'altra sconfitta Questa è un'altra sconfitta Questa è un'altra sconfitta Adesso questo da gioca nome Ma non fa cosi Ehm? cosa vuoi? mim? cosa? cosa vuoi? quello che vuoi? quello che vuoi? quello che vuoi? ma è? cosa vuoi? ma è? ma cosa vuoi? chi si è? che grazie ma lo fai si? eh è il combino ma il nome fa bella giocate bella giocate sta minchia adesso è uscito è uscito tardi è uscito tardi bella giocate sta minchia guarda che pezzo di è uscito è uscito è uscito si 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 cosa c'è? questo è uscito è uscito ti piace giocare col fuoco? è uscito quando questo ti cazzo sei? porco giuda porco giuda non è uscito non è uscito non è uscito puoi scendere? intacciamo l'ultima partita eh è andata male cosa vuoi? telefono un po' sporco questo contro un paladino adesso vediamo pure il paladino come se la cava allora questo lo togliamo questo lo teniamo aspetta non metterlo non metterlo eh non metterlo eh ma eh come sei a tomada? allora mmm cosa fare? ah 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 basta un poco tempo lo stiamo passiamo lo mico è pronto ? lo scemo è pronto? adesso ridiamo so abbassa però francesco sta allogia ha fatto prima galvanizzatore e poi sta allogia questo fa giocare chiaramente la su 3-1 la su 3-1 perfetto noi ci sta proprio bene questa giocata è stupida e l'imbrigliatore ad esempio è una grande giocata vedete che l'imbrigliatore romperà le palle tutto contro questo scemo qua vedete che combina adesso con l'imbrigliatore un 3-6 a costo 4 che quando gioca un solo a carico mette una scintilla due scintille 1-1 con assalto abbiamo pure il nostro silence abbiamo due battaglie per distrucciare la creatura abbiamo un murloc che va a pescare due murloc a spadone e allora su 3-6 questo è un genio proprio del male ok così ho messo un pezzo 3-2 poi lei era la tipa che metteva due murloc la due amalgami e si ho ritorto mezzo 3-2 ma non sai cosa c'è il male ecco il poche sono 3-2-5-1-6 7-9-10-1-12-7-8-15 ancora non va io qua lo farei io qua lo farei sono qua un 1 qua sopra dunque fons adesso lui non può fare nulla muovi muovi le cartine muovi le muovi muovi le cartine figlio figlio di mappina è sta malta ma aspetta muovi muovi le cartine si muovi muovi le cartine figlio figlio di mappina adesso vediamo aspetta no no aspetta vabbè facciamo allora se io vado a silenziare questo chi l'ha fatto? è stupido 3, 4, 5 6 e 7 8, 9, 10 giusto giusto allora se questo lo silenzio e gli metto questo insomma la bellezza di 4, 6, 10 e 9 e chiudiamo la partita e Astar fa ciao 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 con la manina ciao Astar Mazda, 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 Mazda ok siamo ritornati al punto di partenza sempre 2 stelle 2 stelle e più quindi 3 vittorie da 3 quindi è che non è malvagio adesso abbiamo forse un meteor cioè sicuro non posso world clear allora questo è uno streamer sta, sta la prima tolgo tutto perché devo cercarmi invocamare il tescatore ma niente di tua questo lo vediamo alle spalle eh qua bruttissima brutte carte brutte carte ragazzi brutte carte brutte non do come parte sto avversario te la vuoi mettere il pescatore tu no scadete il terraneo scadete il terraneo ma maldiva che bruttante no sono un direbutore non la costa non la costa puoi scendere? ma che combini cominciamo cominciamo vado a dare questo ma io così ah lo due mana se io metto questo torno in vita altri due ma non ha senso secondo me questa giocata non so se metterò quella se metto questo io so che questo è la nerd esce uno uno un altro uno uno e poi ripartiamo dopo di violenza perché se vado a fare il potere eroe no che succede? no lol addirittura sei così forte adesso che fai anche tu gli sei giocato questo finito come lo fai come lo fai prima prossima un due tre eh questo è pesante questo che sta facendo? il mio tesoro è ma fatica è guai ma non non può diventare più giacchietto un credo la piazzurra fammi pensare come toglie tutto e che toglie tra quello con quello quello con poi questo non questo, questo comunque c'è tradda 1 poi tradda 2 tradderà, a meno che non metti qualche altra porcata non l'ho fatto per mettere board presence si, board presence credo la piazzurra eh! c'è abbando un solo quello che fa pescare in acqua bianco, abbiamo messo quello che fa pescare in acqua abbiamo messo quello che fa pescare in acqua Mi sa che è finita sta partita. Questo è scemo proprio forte. Scemo forte. Possiamo ancora vincere allora, questi strums. Allora. Possiamo ancora vincere, perché guarda, se noi togliamo quello da mezzo... Allora tanto me lo toglie lo stesso. Però ci tolgo quello da mezzo. Sì, ci metto questo. Sì, ci metto un'altra. Sì, ci metto un'altra. Sì, ci metto un'altra. Pammale! Pammale! Beccati, beccati! Devo dare la cosa per la... Youtube. Benvenuto. Niente tipo di disturbi. Cstalbete! non è bene non è bene è bene Cosa c'è? si dai fammi pensare ma d'olta 2 o 1 la faccia sono impazzito meno ma ma non è un imbecille questo allora aspetta con 4 sto di questo da mezzo poi con 1 togliamo questo da mezzo con 4 lo mettiamo così questo lo mettiamo qua queste forse le portano a casa le poteva curare adesso che fare pagata ma che non è e maledite questa terra non è ma forse ma 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 colpo di folle in mezzo andiamo con il culo della madonna questo avversario vuoi vedere come ti chiami poi e pure giuda ballerino no no posso ancora giocare posso ancora giocare mi agatha se lo pesco mi top deccare agatha non c'è niente non c'è niente da qua ma pieno di gatti pieno di gatti dopo questa la stacco ragazzi abbiamo abbastanza allora questo è il mio canale che scriveresti nella palude in città due streghe sono solte potere a me per voi solo morte finito 541 iscritti ragazzi vabbè no non toccare ora vabbè ragazzi è è è è è andata un po' male facciamo l'ultima battita ok così qui dovevo accattare un po' di genere possibile immaginabile grazie capitano Nemo 541 ancora un altro sciamano madonna 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 la questa pure è un altro un altro mirror becchiamo solo mirror poca giuda solo mirror se metto questo non va bene se lo accarico del turno dopo partiamo solo con questo non ha senso non mi parte con la moneta è già più avvantaggiato di me aspetta vedi il partito di l'angelo di questa chi ha di schifezza riscato ora anche noi passiamo bravo come mai no se l'era preparata non ci credo se l'era preparata se l'era preparata sto bastardo no io amo Mastrangelo amo Mastrangelo cioè io amo amo Mastrangelo amo Mastrangelo io non ci credo non ci credo c'è un problema perché sta chiavica ha già fatto la cosa io non ci credo vabbè guardatelo con me guardatelo con me ha fatto io in to say ma se l'era già preparata è impossibile che se l'era fatta adesso con il green screen ce l'era già preparata ce l'era già preparata minz minz Non si potrebbe fare un saltino nel 2050 che vorrei vedere l'albo d'oro della Champions? Dai, salta su che andiamo! Ok ragazzi, buon viaggio allora! Sei pronto Luca? Prontissimo! Assicurarsi per il dislocamento temporale! C'è un'edicola qua! Vado subito a comprare un almanacco del calcio! Se c'è l'obbligità! Preso d'occa! 72 euro un almanacco nel 2050! Non l'hanno ancora vinta! Ma qui! Cosa? Dai! Ah Gesù! Guarda questo! Ma perché? Siamo sempre indietro! Siamo sempre indietro però! Dai! Fai il serio! Come direbbe Torsey Sherry! Aspetta! Scusate ma c'è un'altra spiaggia libera qua a Rimini? Non lo so, può darsi! Secondo i miei amici ma qua non ci sono! Grazie! Sì! Io sto arrivando dal mare e sto andando verso l'interno della spiaggia libera! Tu dove sei? Sei verso l'interno? Ok! Vedo! Ho capito! Io sono dove c'è il bagnino! Ma mi sa che tu sei in un'altra spiaggia libera! Ragazze sapete dov'è la ruota panoramica? Sono arrivata adesso! Aspetta ragazze ma non c'è il bagnino nella spiaggia libera? Non lo so! Non l'avete visto? No! Vabbè grazie! Ragazze voi sapete per caso dov'è la ruota panoramica? Perché ridete? Verso di là? Da quel lato là? Sì! Beh è da quella? Il bagno c'è? 2-3-2 ma esiste? 2-3-2 ma esiste? Ho richiesto? Mi ha detto 2-3-2 ma non esiste! Perché lo c'è la recente? Aspetta che lo chiedo! Che lo c'è la recente? No! Ma se c'è la ruota panoramica? Non 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 c'è la ruota panoramica? ma un mico ha detto che è alla spiaggia di Debra ma è vicino a una tipo ruota panoramica di là? da quella parte? ok me l'hanno chiesto da arrivo grazie adesso la gestiamo ciao saluta saluta? saluta ciao saluta 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 guarda ciao alla prossima sarò più grande tra un po' faccio un anno e mezzo saluta guarda grazie guarda alza la testa alza la testa guarda ok grazie a tutti buon proseguimento di giornata